Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sanguinaccio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono latte, zucchero, cacao omaro, cioccolato fondente, cannella, liquore strega, vanillina, farina di tipo 00 e amido di mais. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riumiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo adesso il cacao amaro, la farina, il latte, l'amido, la vanillina, la cannella, e il liquore. Ed azioniamo il bimbi per 20 minuti, 90 gradi, velocità 4. Il sanguinaccio è pronto. Lasciamolo raffreddare e serviamo. Sanguinaccio. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.